è da molto che non facevo una live e vediamo di parlare di qualcosa perché oggi voglio portare un tema che ho già portato nel mio canale di youtube stiamo informando i tuoi follower ora partecipa ciao ciao vediamo non so qua l'effetto speciale a eco non so come si scelgono però voglio portare un argomento e continua a parlare della magia dell'esoterismo e dell'occultismo come ho fatto nel mio canale di youtube se vi interessa cercate in youtube santin chan magia occultismo esoterismo adesso non so come cambiare effetto speciale ma sembra che lo sceglie in automatico qua c'è di rudolf steiner trattato della scienza occulta andiamo a vedere perché io non pensavo fosse stato scritto da steiner sapevo che lui era un antroposofo cioè avevo unito l'antropologia alla filosofia la evoluzione cosmica dell'uomo vediamo senza effetti speciali forse sto meglio tocca per modificare a tocco qua non si modifica niente no vabbè lascio così lui credeva nell'evoluzione filosofica della dell'essere umano quindi ha fatto la sua antroposofia la natura dell'uomo capitolo secondo è un libro che guardate sono arrivato a leggere fino qua perché monotono poi o in internet questo l'ho comprato quando non avevo il web sul web ho trovato cose cose di steiner che non mi sono piaciute e soprattutto che ha fatto una specie di seta il conoscimento dei mondi spirituali la conoscenza dei mondi spirituali dell'iniziazione quindi insomma lui pensava di aver fondato faceva credere di aver fondato una scienza filosofica e invece era una seta mistica insomma allora grazie per partecipare nella chat rita e si seguite voi anche di 7.000 visualizzazioni poi parliamo di un'opera di westcott che mi sembra che è stato quello che ha ripresentato il buddismo in occidente assieme alla bravaschi w wine westcott gli oracoli caldei attribuiti a zoroastro che poi in realtà il vero zaratustra era contrario agli astrologi è stato un malinteso non so se medievale o rinascimentale di ribattezzarlo zoroastro ma in vera in verità si chiamava zaratustra e lui li faceva perseguire gli astrologi comunque qua gli oracoli caldei ma sono delle sentenze delle sentenze che poi magari si era inventato lo stesso autore oppure tradizioni del passato il bello che inizia molte pagine essere scritte in gotico con una stampa così finiscono nella seconda meta per essere un libro scritto in caratteri normali non so perché ma non ho mai detto neanche questo libro molto poi anche questo l'ho letto a metà perché monotono un libro di alistair crawley il libro delle bugie che ogni bugia può essere una verità ogni verità può essere una bugia l'ho letto spagnolo e per quelli che sanno lo spagnolo va bene ma sono delle sentenze larghe poi anche nella spiegazione comunque uno dei nomi di alistair crawley era frate per perduravo e ha viaggiato anche per il mondo andato anche in argentina qua sta in un cavallo con un poncio patagonico ogni tanto instagram mi dà che delle storie non sono state pubblicate io le cancello ma poi scopro che erano state pubblicate quindi a volte ci sono dei problemi di connessione poi qua di frank hartmann che mi sembra che c'è anche una storia esoterica che non ho mai letto ciò nel portico del tempio della saggezza tutti questi libri di esoteristi di fine ottocento inizi novecento libri dal titolo pomposamente altisonante libri dal titolo pomposamente altisonante nel portico del tempio della saggezza un libro di frank hartmann che poi ce l'ho anche un altro quadra in pratica una lettura della storia dei filosofi occidentali gli addetti non addetti filosofi di rosa croce massonici e infine ciò di aleister crowley questo sì l'ho letto abbastanza anche se non tutti i grimoire goezia la chiave minore del re salomone il libro degli spiriti scritto da aleister crowley sempre mi sono piaciuti al margine dei libri di un certo spessore anche questi libri balenghi oggi non li comprerai più ma non perché me ne penta che risparmiere tanti soldi qua e le illustrazioni gente che ci crede qua gli accessori e i pentacoli il sigillo segreto di salomone ecco beccati questa questo è il segno il sigillo segreto di salomone dopo che pratica è stato pubblicato non è stato più segreto allora se uno vuole utilizzare il sigillo segreto e qua ci sono altri sigilli non so se sono segreti ma come potete vedere insomma adesso almeno un centinaio di migliaia di persone avranno il suo libro non so perché mettono gli effetti speciali 6 e poi ci abbiamo che quello era il triangolo magico di salomone prima che bello effetto parlando parlando di magia l'energia energia energia magia energia che bello il circolo magico di salomone fai sta roba qua scrivendo bene tutte le lettere e che succede beh se fa e scrivi un puntino fuori luogo non succede nulla qua c'è il codice del dottor rude in questo schemino qua c'è una tavola di valori no classificazione degli spiriti della goezia sarebbe la magia nera e crawley diceva di non essere un mago nero però ha classificato gli spiriti insomma in accordo al suo rango osservazioni e qua vengono i sigili ce ne sono 72 quindi comunque del tema se ne è occupato qua la rossa dei venti la rossa dei venti ciao come va alfa lotto android ciao buon fine settimana a mi ero sordato buon fine settimana a tutte e tutti quelli che saranno sintonizzati o che guarderanno la live dopo e mi raccomando seguitemi su youtube cerca a te su youtube canale sante gian tu e mi guardi adesso magari dopo che la live è finita cerca su youtube sante gian io caricherò questa live in un qualche canale mio di youtube non tanti ma il principale ha quasi 4000 iscritti allora questi sono i primi quattro sigilli dei primi quattro spiriti non starò a leggerveli tutti i settori poi ho altro da fare il libro dei cattivi spiriti se se ma for asce ma for asce sicamente sembra ebreo quindi che cosa a lei star crawley che diceva di non essere un satanista di non essere un mago nero eppure ha scritto il libro dei cattivi spiriti e by il primo spirito principale è un re che regge l'est chiamato by conferisce la invisibilità se lo evoco in questa live probabilmente la live non nessuno divento invisibile a gare il secondo spirito un momento ma va va al foro momento che mi è venuto un dubbio vado a dubbio adesso che sono riuscito a stabilire un nesso un contatto con il wifi mi è venuto un dubbio ma tanto io starò con voi perché appunto non so nel computer da scrittorio però mi è venuto un forte dubbio vado a dubbio non lo so però costi lampi con i tuoni ah no ecco il forno sembra chiuso e dicevo di art ma libro di art ma non mi va di andare a cercare il libro ve lo parlerò un'altra volta tanto live qua siete in pochi e non mi va non mi va guardate che belle statuine guardate guardate ciò pure il sole e la luna che sono simboli anche ermetici cioè il sole e la luna ma non mi va di andare in cameretta nella biblioteca e cercare il libro di art frank hartmann credo che sia qua non so sì che c'è il libro il portico della serie del tempio della saggezza non so da quanti minuti sono live però non so mi appare la tastiera succedono delle cose strane questo cellulare il colore di occhi va bene e vediamo succede che niente ho finito già la rassegna dei libri perché non so se non intervigono altre persone live comunque vi ringrazio a tutte e tutti tv perché già ho superato le 7 mila visualizzazioni in instagram in youtube nel mio canale principale non molto di più poi sto suddividendo gli short tra tanti i cali in realtà in youtube sono tantissime visualizzazioni ma in instagram non ho mai avuto 7 mila che poi è successa una cosa strana chissà quanti di voi mi potranno dire qualcosa c'erano le sfide in instagram di fare 2500 post di fare non so quanti short ril di fare non so almeno la storia al giorno di farne 7 la settimana di farne due al giorno hanno cancellato tutto io come creator potevo partecipare a questi incentivi no che mi davano medagli in instagram ma ormai non ci sono più e io vorrei sapere da voi se mi state seguendo e se per caso anche voi non avete più queste medaglie questi incentivi o che bisogna reinstallare l'applicazione di instagram perché ci avevo un sacco un medagliere pieno di trofei di aver fatto più di 20.000 non so che cosa 30.000 di qua 30.000 di là di essere da più di dieci anni ti danno delle medaglie delle medaglie e adesso invece no non ti riconoscono più più nulla una benedetta cipa e allora io voglio voglio sapere perché uno partecipando a tutti sti concorsi e poi non si delino più perché è cambiato così senza avvertire senza dire nulla perché è cambiato adesso scelto un altro effetto speciale scelto un altro effetto special a mi fa perché qua c'è la figura delle ciliegie mi fa rosso come una ciliegia hai capito mi fa rosso come una ciliegia ma no ma dai su ma che poi ci sono effetti speciali strani non li puoi scegliere tutti a questo grigio è strano tipo questo sarebbe versione il sogno youtube soltanto che questo è televisore analogico che funziona sfassato dice niente mi piace fare questa live e da molto tempo che non facevo una live in non so se l'ho detto in instagram per vedere quante persone ci partecipano perché ultimamente c'è tante visualizzazioni che voglio dire forse magari qualcuno si sintonizza vediamo se faccio clic che qua hanno messo delle funzioni nuove oppure io mi sono scordato quelli vecchi aggiunge un moderatore di settimana di rastire richieste di trasmettere di in diretta disattiva domande no non disattivo nulla vediamo se continua perché magari schiacciando qualcosa bella questa ma questa è un'immagine che sembra normale che filtro e con le nuvole quando ci sono delle occhiaie pazzesche perché il cellulare ti ammazza cioè veramente forse l'effetto speciali forse che io specialmente non dormo di notte dormo poco comunque mi fa piacere questo lo caricherò in un canale che ho soltanto 100 iscritti probabilmente mi fa piacere che molti di voi guarderanno questa live nella quale io ho parlato accennato parlato di queste mie letture che comprei nell'anno 2000 super giù anche prima il libro dei grimori l'ho comprato nel 92 94 se adesso mi avessero 20 euro per ciascuno di quei libri lo vedere subito non che mi servano 100 euro contribuire a comprare un cellulare ma più facile comprare un libro che venderebbe a vendere un libro che mi servono mi sembra che posso fare lo switch nel mio secondo acconto ma nel secondo come mi seguono meno persone ancora perché l'ho un po abbandonato il secondo acconto di instagram era per i miei cani ma appunto ha meno funzionalità perché un acconto di servizio e forse questo questa live la guarderanno dopo chissà quante persone ma fra poco mi sto già annoiando volevo fare una live per vedere quanti partecipavano vediamo un po ci sono pochi effetti speciali e c'è anche 8k 8k ma 8k con me questo non mi piace effetto polarizzato 8k non so se poi voi mi vedrete in 8k dovrò fare una live dall'inizio con l'effetto 8k ultra hd dovrò vedere dovrò fare una live a parte con l'effetto 8k ultra hd ma qua per il momento hanno partecipato una alfa lotto android rita de mollari artan elvis scott 86 e basta quindi quattro persone hanno partecipato quattro persone e io sto qua in diretta da quattro da da 30 minuti non so se posso guardare no non posso fare swift per guardare quante persone hanno partecipato a bella questa sembra che sto nell'acqua è un po come l'effetto sogno di youtube ma questo è nell'acqua piace molto come fluida la filmazione così la mente letteralmente l'immagine si vede molto fluida la prossima volta faccio un video solo con questo ve lo prometto peccato che si possono fare video di massimo 90 secondi qua su instagram e non di tre minuti come vuole fare youtube o di dieci minuti come già fatti toc però le live possono durare il tempo che vuoi e rimangono salvate in instagram poi ci rimette la descrizione ma intanto magari passano il facebook se non si vedono dal vivo facebook quindi le persone che mi hanno salutato forse mi seguivano facebook mi piace mi piace cavoleggiare così che ci possiamo fare quando abbiamo del tempo da perdere tempo lo perdiamo vogliono proibire il cellulare nelle scuole certo perché adesso nei nuovi cellulari c'è l'intelligenza artificiale e se tuo figlio è stupido che non studia non sa studiare ma almeno mandaci il cellulare a studiare a scuola che c'è l'intelligenza artificiale così almeno il 10 in condotta e la media del 10 glielo danno al cellulare dopo gli danno promosso al cellulare la maturità se la prende il cellulare non tuo figlio ma tanto con l'intelligenza artificiale che ci toglie il lavoro si sa che chi che chi rimarrà a studiare ea lavorare saranno i cellulari sul luogo del lavoro ci mandiamo il cellulare noi rimaniamo a casa e prendiamo lo stipendio dal cellulare se tu sei un tazzista e allora ci mandi la macchina intelligente al lavoro la supercar del futuro vi ricordate supercar no la macchina intelligente kitty non so come si chiamasse degli anni 80 la serie il serial americano nord americano supercar ebbene si sta facendo realtà adesso la macchina ti può parlare tu puoi essere il proprietario di tazzi intelligenti che non hanno bisogno di un chauffeur di un autista e ci mandi la macchina intelligente il cliente la chiama con un'applicazione gli dà il benvenuto la macchina intelligente che non avrà volante non avrà nulla per ottimizzare lo spazio e cliente li dice voglio andare in via trastevere al numero o in via condotti o alla circonvaliazione giannico lenze ostienze al numero 100 la macchina ce lo porta da via teulada alla circonvaliazione giannico lenze paga magari col cellulare e tu stai a casa se il padrone della macchina prendi il guadagno tu poi paghi le tasse paghi il mantenimento della macchina digitale e basta magari la macchina non la vedi mai perché lavora 24 ore andrà dal meccanico da sola oppure si mette nella carreggiata d'emergenza la vanno a ritirare e tu la macchina non la vedi mai ogni due o tre anni cambi di macchina perché vada al concessionario e in leasing prendi l'altra macchina tu la macchina come tazzista non la vedi mai perché non guiderai più sarai il padrone di una di una compagnia di tazzi diventi macchine che con l'intelligenza artificiale quindi a che servirà in un futuro studiare e se faranno tutto i bot quindi per quello i tuoi figli adesso portano perché stanno già avanzati il cellulare a scuola perché gli dicono e google di me chi è stato garibaldi saluto a elige 2423 già per quello vogliono proibire in italia in tutto il mondo i cellulari a scuola che li devono consegnare entrando a scuola perché dicono google e go o e google chi è stato giuseppe mazzini c'è nulla auricolare nell'orecchio che tra l'altro non bisogna usare questi auricolari perché ti rovinano e rimani sordo perché noi abbiamo nel timpano dei peli dentro che sono quelli nel liquido in sospensione che sentono col movimento se ti metti gli auricolari quegli esterni fanno meno danni soprattutto se ne ascolti bassi io da giovane ascoltavo musica a palla e quindi mi sono un po rovinato quando mi volevo sfogare ma non bisogna ascoltare musica con gli auricolari meno che mai quelli che entrano nell'orecchio perché sennò ascolterà il resto della tua vita così tappati le orecchie e vedi come ascolti basso così ascolta un novantenne e bassissimo e ha bisogno di amplificatori ma se tu arrivi ascoltare così ai 50 anni ai 90 anni non c'è amplificatore che valga capito allora oggigiorno basta con con una sola auricolare dire e che poi rimane occulto e google o google e go chi è stato mazzini e ti fa un riassunto google e attraverso un comando vocale magari nell'orologio intelligente messo da qualche parte e il bignami digitale per intanto così mostra ora partecipa saluto così mostra non so che dio ma se ne è uscito così mostra entra una persona esce una persona entra una persona esce una persona comunque prima ho parlato di libri di magia vi invito a guardare la mia recensione che ho fatto sul mio canale di youtube principale credo che il link lo troviate nella descrizione del mio profilo di instagram comunque se voi volete supportarmi aiutarmi a aiutarmi a continuare la mia attività soprattutto su youtube vi potete abbonare nel mio canale di youtube e oppure regalarmi dei super grazie super grazie li potete anche comprare a nome di qualcuno regalarli a qualcuno quindi e io così avrei più autonomia per comprarmi un migliore cellulare adesso sto trasmettendo dal motorola moto e sette i power quindi voglio dire vi ringrazio a tutti quelli che mi seguono instagram se volete se non potete darmi delle donazioni seguitemi lo stesso in youtube guardando i miei video di youtube oppure guardate commentate il video qua in instagram mi farà piacere se aumentano le visualizzazioni qua perché comunque io da instagram per il momento non ho attivato la monetizzazione perché funziona in modo diverso e già devo attualizzare i miei dati in se sono gli stessi ma loro vogliono periodicamente ogni tre anni che uno in adsense rinuovi il contratto lo devo fare prima di dicembre sono pigro indolente ancora non l'ho fatto la comunicazione l'ho avuta da circa un mese però voglio dire e lo dico questo lo salverò nel mio canale principale forse non mi conviene in un altro non guarda cioè se guadagno visualizzazioni in un canale secondario ancora youtube mi deve pagare perché arriva a pagare oltre 100 dollari mi deve pagare 68 dollari adesso ovviamente perché mi hanno dato una donazione di 10 euro se voi quindi volete che io raggiunga i 100 dollari youtube datemi una donazione youtube nel mio canale principale poiché altro dire niente ogni tanto partecipa una persona ogni tanto ogni tanto mi comunica instagram che partecipa una persona partecipa una persona partecipa una persona non so quante persone da 55 ha partecipato probabilmente genererà questa live visualizzazioni dopo per intanto io vi lascio mi ha comiato da voi perché intanto non cambia nulla mi spiace interrompere così la diretta se ci fossero come è successo l'ultima live quattro cinque persone che mi seguono e che interattuano con me allora rimandrei anche un'altra mezz'ora più ma per il momento no vi lascio il vostro sentenchan vi lascia torni a torniamo per un po alla seminormalità torniamo alla seminormalità qua non so che colore di occhi scegliere scegliere perché dice fatti per scegliere ma quando sceglie nulla sempre rimangono di un verdoso beh allora vi ringrazio di avermi seguito fin qua non so quanti minuti ho fatto non entra più nessuno buon venerdì che giorno è oggi si venerdì 25 ottobre buon fine settimana buonasera buon pomeriggio buonasera buona cena buonanotte sogni d'oro sogni d'oro dipendendo dai punti di vista può essere pomeriggio può essere già per voi sera dipende da per molti già alle 18 sera per altri pomeriggio prima serata fate un po voi buona cena buona merenda magari state facendo merenda e buonanotte buon fine settimana sogni d'oro ciao ciao grazie a quelli che mi hanno seguito in live adesso non mi segue nessuno almeno se l'indicatore qua è corretto non indica neanche uno poi magari sarete in cento va un po sfasato il mio instagram e alla prossima live erano forse anni che non facevo una live credo quindi ne farò più spesso se questa la come video in instagram ottenerà visualizzazioni se no niente vuol dire che neanche come video interessa può interessare ciao